Quello che distingue la rapina dalla quale ci occupiamo oggi rispetto alle altre perpetuate negli anni nel Bibonese è la brutalità con la quale l'aggressore si acchinisce contro la sua malcapitata vittima, alla ricerca di soldi preziosi o altri oggetti che valeva la pena di rubare. Il tutto avviene nella tarda serata del 22 agosto scorso. Un uomo col volto travisato aggredisce con una ferocia inaudibile un'anziana donna che nelle campagne di Paradiso, in una frazione del comune di Briatico, stava prendendo il fresco nel portico di casa. Pugni, calci in faccia, altri colpi che le hanno provocato la frattura della mandibola, quella di una falange della mano sinistra, una commozione celebrale e altre contusioni in tutto il corpo, e solo per intimidirla prima e per non aver trovato quanto sperato dopo. Ma l'uomo non si accorge che tutto è stato ripreso da una telecamera di sorveglianza, quindi indispettito se ne va buttando via persino i cellulari che aveva appena rubato. La donna, astento, riesce ad avvertire i carabinieri che dopo una curata indagine oggi hanno arrestato Brian Sicari, un giovane di 22 anni di Briatico, con plurimi precedenti di polizia per reati contro la persona e contro il patrimonio, che potrebbe anche essere responsabile di altri atti violetti che da tempo si verificavano nella zona. Un'operazione veloce ed è stata tanto veloce quanto è stato cruento, perché si trattava di un fatto veramente gravissimo. Le immagini sono in qualche modo ghiaccianti per come si è svolto il fatto. Poteva essere ancora più veloce, però come dicevo prima, abbiamo aspettato un attimo di acquisire tutti gli elementi che ci potessero condurre poi ad avere un quadro probatorio in modo che non potesse uscire poi subito dopo. Vedremo poi il giudizio e le successive vicende giudiziarie cosa diranno. L'arrestato è una persona estremamente violenta, con anche precedenti specifici. Sì, aveva per la verità ancora applicato una misura cautelare nei suoi confronti. Era stata gradata, aveva l'obbligo di dimor, ma si era reso responsabile di un'altra rapina e del reato del 612 bis. Quindi diciamo era una persona che stava terrorizzando. Noi questo avevamo registrato, il fatto che sul territorio di pertinenza la gente era allarmata. Fondamentali sono stati gli apporti che hanno dato la vittima e i suoi familiari, fornendovi persino i filmati di quello che accadde quella notte. Sì, la vittima era talmente scossa da quello che era successo, miracolosamente non è rimasta lì per terra, perché poi dal filmato si danno delle cose terribili. Non solo della vittima, devo dire anche della famiglia dello stesso indagato, che è esasperata da quello che stava succedendo. Anche loro ci hanno dato in qualche modo una mano ad accertare questo fatto, perché evidentemente anche loro l'hanno ritenuto così grave. La violenza del gesto è testimoniata anche dalla durata dello stesso? Dall'accanimento, dall'accanimento. Cioè arrivare a prendere a calci in quel modo una signora anziana senza motivo, perché in fondo non c'è motivo, è una cosa... Io sono rimasto scosso anch'io, eppure io non ho visto di cose brutte nella mia vita, nell'attività professionale, però questo è veramente particolare. Oggi e domani a Catanzaro ho inizionato alla Commissione Parlamento dell'Antimafia. Cosa aspettarsi?